Attenzione, c'è sempre una ragazza al comando, è la dorsale 35, Anita Pettenuzzo, GS Prealpino, una ragazza quindi lombarda che si proietta verso il finale, sta per entrare nello stadio. Ed eccola qua signore e signori, tutta sola, alla maniera dei grandi, si gode questo arrivo assolutamente trionfale, guardate che vantaggio, mamma mia. In seconda posizione c'è Giorgia Svanauer, anzi no, è la compagna di scuola, Viola Maria Galvan del veloce Club Borgo, dovrebbe essere lei. Forza con gli applausi Anita Pettenuzzo, Prealpino, vince in maniera eccezionale. Tra poco quindi procederemo alla premiazione, mentre tra poco in gara ci saranno i maschietti, arriva la G4 maschile. Questa volta, lo ricordo, saranno 5 le batterie per quel che riguarda la G4 maschile. Siamo pronti, signore e signori, per la premiazione della batteria 2 della G4 femminile. Allora andiamo con questa premiazione al quinto posto per quel che riguarda la batteria 2 della G4 femminile. Allora andiamo con questa premiazione al quinto posto per quel che riguarda la batteria 2 della G4 femminile. Al quinto posto, Vittoria Mascherello, città di Marostica. Vengono premiate da Stefano Casagranda, presidente del veloce Club Borgo. Allora andiamo con questa premiazione al quinto posto per quel che riguarda la batteria 3 della G4 femminile. Allora andiamo con questa premiazione al quinto posto per quel che riguarda la batteria 3 della G4 femminile. Aspetta perché il presidente ovviamente sta facendo un po' di chiacchiere con le ragazze. Quante? Mamma mia. Praticamente tutte se le ha vinte quel numero lì. Allora presidente, devi sapere che la signorina a cui stavi chiedendo e ti ha risposto che ha vinto 20 gare, con lei che premierai tra poco, che è una tua ragazza, ne ha vinte 22, mi dicono da queste Vardy. Al secondo posto, Giorgia Svanauer, veloce Club Borgo. Se ne è accordo, eh? La vincitrice della batteria 2 della G4 femminile, Anita Pettenuzzo, prealpino. Vabbè. Tanto guarda, mica dobbiamo fare altre gare noi qua, vero? Presidente, no, tranquillo. Scusa presidente, di cosa stavi parlando? Sempre di vittorie? No, siccome non sanno quante corse hanno vinto, gli ho chiesto quante le hanno perso. Cosa ti hanno risposto? Una a due, una a tre, quindi insomma... Praticamente sono tutte le migliori. La buona media. Ma fra due o tre anni, quando si troveranno tutti i giorni, tutte le domeniche, tutti assieme, cambierà la storia. Bene, intanto vogliamo sentire cosa ci raccontano. No, no, dai intanto il microfono a Giorgia, perché fuori programma, figlia anche di uno degli sponsor. Presidente, vai qua vicino alle ragazze. Giorgia, allora, ci hai creduto? Sì. Com'è andata comunque? Sei contenta? È un bel secondo posto, eh? Sì, come l'anno scorso. Quindi l'obiettivo è quello di migliorare questo piazzamento, giusto? Sì. Che cosa vuoi dire alla tua squadra, alla tua mamma, al tuo papà, al tuo presidente, al tuo direttore sportivo? Di quello che vuoi. Che mi sono divertita, era un bello circuito perché a me piaceva, e quindi la dedico a mia mamma, mio papà, alla squadra, all'inda Giacomini, esordiente primo anno. Addirittura? Ti piace la salita, Giorgia? Sì. Bene. Passa il microfono alla tua avversaria, ad Anita. Allora, Anita, conosci bene tu questo posto, vero? Sì. Perché? Perché l'anno scorso l'avevo già vinta. È stato più bello l'anno scorso o quest'anno? Quest'anno. Perché? Perché ci ho creduto fino alla fine. Dov'è che sei andata via? Quando sei andata via da sola? Sono andata via all'ultimo giro, quando ho recuperato lei. A chi dedichi la vittoria della Coppetta? Alla mamma, alla famiglia e alla squadra. E fatele un grande applauso ancora ad Anita. Stefano, dato che tra poco entriamo in cronaco con i maschietti della G4, la prima batteria, ma è ancora presto, la situazione è tranquilla? Vuoi dirci, vuoi darci un saluto? Vieni qua al centro così ti inquadrano, siamo sempre in diretta sui canali social Facebook di Pianeta Giovani, Pianeta Ciclismo. Come sta andando Stefano? Una giornata molto impegnativa questa, è 25 batterie, non è mai successo qua. Ma mi sembra che questa mattina abbiamo finito in tempo, in orario, sono stati bravi i ragazzini che sono riusciti a concludere in fretta anche le batterie, quindi insomma siamo in orario. Poi è minacciato un po' di pioggia, ma l'avevamo previsto per rinfrescare un po', anche se forse ha fatto un po' di umidità. E adesso continuiamo con il bel tempo, com'è la previsione. Posso dire una cosa, tribuna? Io ieri quando sono andato in bici a trovare il press al suo negozio, se andate da queste parti a fare una vacanza, mi raccomando, se avete bisogno di una bici, un e-bike o quant'altro, andate da in bike di Stefano Casagranda. No, comunque ci tenevo a dire una cosa, io era da molti mesi che non vedevo il Presidente e sono stato molto contento di vedere Stefano così bello, pimpante, come non lo vedevo veramente da diversi anni. Sono e siamo molto contenti, grazie Stefano. Speriamo di rimanere così allora. Pa!